oggi come da titolo andiamo a preparare la bock cake all'arancia e cioccolato sul canale trovi già la versione direttamente tutta al cioccolato ma iniziamo subito rompendo le uova a temperatura ambiente all'interno della ciotola della planetaria uniamo lo zucchero e montiamo il tutto con le fruste elettriche alla massima velocità per una quindicina di minuti devono diventare gonfie e spumose e triplicare quindi di volume poi aggiungiamo succo d'arancia poi olio poi farina lievito e scorza d'arancia questa è una torta molto semplice da realizzare però il connubio cioccolato e arancia sappiamo benissimo che fantastico tra parentesi ho in braccio mio figlio riccardo che vuole assistere vero perché facevi i capricci poi cucinerà insieme a me amore mio riagganciamo la frusta e amalgamiamo il tutto per pochi minuti a questo punto trasferiamo il nostro composto all'interno di una tortiera dal diametro di 20 22 centimetri e cuociamo nel forno preriscaldato 180 gradi per 25 30 minuti come sempre è meglio fare la prova a stecchino per verificare se è cotta a questo punto facciamo sciogliere il cioccolato con la panna se vuoi rendere la torta un po più light al posto della panna puoi utilizzare del latte e se sei intollerante al latte lattosio puoi usare tranquillamente del latte vegetale intanto che si finisce di sciogliere il cioccolato andiamo a bucarellare la superficie della torta con l'aiuto del manico di un cucchiaio di legno non sprofondare troppo con i buchi altrimenti poi andrà a fuoriuscire ok distribuiamo questa delizia sulla nostra torta ecco spargiamo per benino ma che torta è golosa è mai questa non lo so sarà che io quando c'è cioccolato proprio impazzichisco ciao